salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi andremo ad attivare una codifica molto utile e sarebbe quella che nel momento in cui noi andiamo a chiudere la macchina e abbiamo finestrini aperti come in questo caso sia che sia un finestrino sia che sia un tetto o comunque i finestrini posteriori andremo ad attivare la codifica che anche senza chiave andiamo a premere solo il tasto questo qua lato guida del finestrino del lato guida tenendolo premuto si alzeranno tutti i finestrini e quindi si chiuderanno i finestrini o viceversa nel momento in cui vogliamo aprire tutti i finestrini così anche il tetto basta schiacciare solo questo tasto qua per l'apertura si apriranno tutti tutti i finestrini e anche il tetto o viceversa come dicevo schiacciamo come se vogliamo chiudere e si chiuderanno tutti i finestrini vedete il momento adesso io vado ad azionare questa funzione qua non ci permette di fare niente vedete il finestrino è aperto e rimane aperto quindi non si chiude per fare con la codifica come sempre noi utilizziamo il nostro obd 11 ok andiamo a dare quadro alla macchina a collegare il nostro obd 11 ok e aprire l'applicazione perfetto andiamo aprire l'applicazione obd 11 connettiamo il telefono all'obd 11 come sempre una volta fatta la connessione del telefono all'obd ci facciamo la scansione di tutta la macchina così da avere controllare eventualmente errori o guassi alle centraline e così da cancellare ecco qua scansiona andiamo a farci tutta la scansione tutte le centraline e vediamo se ci da qualche eventualmente qualche errore ok una volta fatta tutta la scansione tutte le centraline come in questo caso non esce nessun errore eventualmente a voi dovreste uscire un errore basta schiacciare e tenere uno sull'astro qua da cancellare gli errori che dobbiamo fare invece di andare nel veicolo della macchina e quindi in applicazioni andiamo direttamente all'interno della centraline della macchina dell'utile di controllo e andiamo a fare direttamente alla centralina e direttamente sulla nostra centralina che non ci serve così da neanche consumare i crediti che se noi abbiamo a fare adesso 104 crediti rimarranno sempre 104 quindi non utilizzeremo i crediti ma questa codifica sarà totalmente gratis per fare tale codifica dobbiamo andare in centrale elettrica faccio vedere centrale elettrica sta qua la 09 entriamo all'interno di questa centralina andiamo in adattamento aspettiamo che legga la centralina prima di fare questa codifica vi consiglio ad ogni modo di chiudere per il momento tutti i finestrini così da memorizzare tutti i finestrini così da memorizzare adesso la codifica che i finestrini sono tutti quanti chiusi sia questo e sia il tito che in questo caso avessi chiuso ok ecco una volta aperta la centralina e quindi andato in adattamento e ci esce questo sottomenu andiamo in controllo di accesso 2 controllo controllo ecco qua controllo accesso 2 clicchiamo ed entriamo e adesso ci compare ci compare ci compare fare un altro sottomenu andiamo in quasi nelle ultime voci dobbiamo trovare questa parola qua fare tu e beh bienung questo qua fenster ber oef nen ci clicchiamo sopra e andiamo ad attivare questa codifica qua cosa adattamento una volta fatto questa codifica non usciamo perché perché dobbiamo attivare anche la voce di sotto sia questa qua oef nen o sia questa qua schliesen tutte e due quella di sopra e quella di sotto andiamo su quella di sotto attiviamo questa qua di sotto una volta fatto ciò tutte e due attive come potete vedere confermiamo ci chiede il codice di sicurezza andiamo a mettere il primo 31347 o lo scriviamo a mano o ci clicchiamo direttamente sopra in automatico se lo prende confermiamo e ci dà adattamento accettata una volta fatto ciò riconfermiamo per comunque essere sicuri che la codifica l'abbia presa e ci controlliamo adesso se la codifica funziona usciamo come sempre dalla centrale come vi consiglio sempre perfetto ok spegniamo la macchina scendiamo dalla macchina e prima di provare se il tutto funziona dobbiamo aspettare che il quadro si spenga del tutto ecco la rete ecco il quadro si è scrinto mettiamo la chiave la chiave della macchina la mettiamo così facile che comunque è una codifica automatica e andiamo ad abbassare e tenere premuto solo del tasto questo qua lato guida il finestrino lato guida tenendo premuto per più secondi ecco qua si abbassano tutti i finestrini e così che si alza anche il tetto viceversa nel momento in cui noi andiamo ad alzare e tenere premuto verso l'alto si chiuderanno tutti i finestrini e quindi anche il tetto si chiuderà del tutto questa codifica qua ci aiuta che nel momento in cui abbiamo parcheggiato e ci siamo dimenticati i finestrini aperti o viceversa vogliamo aprire i finestrini solo un unico tasto ci permette sia di aprirli tenendo premuto per più secondi e sia giustamente chiuderli vedete che nel momento in cui andate a schiacciare il tasto per aprirli o per chiudere non è subito reattivo se non si caccia così non si apre subito ma dovete tenere premuto il tasto per 4-5 secondi così da dare conferma al funzionamento e si apre così come si apre così si chiude vedete questa funzione qua è comoda per noi che se mai chiudiamo la macchina o scendiamo dalla macchina i finestrini sono aperti o viceversa vi ripeto vogliamo aprire i finestrini quando non abbiamo la chiave all'interno della macchina e quant'altro ci aiuta questa funzione qua ok ragazzi spero come sempre il video vi sia stato utile per qualsiasi cosa se vi posso essere utile scrivetevi nei commenti attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sui miei nuovi video iscrivetevi al canale e condividete sempre i miei video ok ragazzi ciao e al prossimo video ciao ragazzi ciao